Come potevamo non iniziare il nostro speciale questa lunga kermesse sul salone di Francoforte partendo dal marchio di casa per eccellenza non solo anche il marchio che l'automobile l'ha creata e che adesso sta aprendo un nuovo corso sta contribuendo naturalmente ad aprire un nuovo corso quello dell'elettrificazione quindi un grande capitolo naturalmente siamo qui per capirne di più per capire quali sono i nuovi passi che Mercedes sta facendo in questo senso. Allora 20 novità qui a Francoforte partiamo dall'elettrica, dall'elettrica pure qui dietro di me c'è la Vision EQS quindi come potrebbe essere la nuova classe S completamente elettrica dal punto di vista dello stile, dal punto di vista della tecnologia è una rivoluzione vera e propria pensate questo prototipo ha 700 chilometri di autonomia soltanto in elettrico ma soprattutto ha un livello di guida autonoma livello 3 tanto per farvi capire si arriva a livello 5, livello 5 dormite, vi mettete da una parte pensate completamente a un'altra cosa, livello 3 è il massimo ad oggi raggiunto da Mercedes Benz, è importante però oltretutto perché si sta creando uno standard al quale si adegueranno anche le città, le autonomie cittadine per creare le infrastrutture di dialogo per raggiungere la guida autonoma. Due grandi novità, due SUV, la GLC e la GLE plug-in hybrid parliamo della GLE che è molto interessante perché è una macchina che ha 320 cavalli con i due motori combinati, un motore diesel di ultima generazione e un motore elettrico ma questa macchina il vantaggio è che fa 100 chilometri in modalità esclusivamente elettrica i consumi quali sono? Beh se l'avete caricata la notte fa 90 chilometri con un litro di gasolio il vantaggio è che non paga il superbollo e il bollo è esente da 3 o 5 anni anche plug-in hybrid quindi con questo bimotore ibrido viene lanciata la classe A e la classe B in questo caso con 70 chilometri di autonomia soltanto in elettrico e con una potenza che supera i 200 cavalli e poi tante novità anche per quanto riguarda le automobili con i motori endotermici normali quindi c'è il lancio della nuova GLE Coupé molto fascinosa dal punto di vista del suo look molto fluente c'è la nuova GLB, ci sono le classi A 45S strapotenti da 420 cavalli, c'è la GLS insomma tutte le grandi novità di Mercedes-Benz le trovate qui al salone di Francoforte